Umberto Ambrosoli candidato alla presidenza della Lombardia per il centro-sinistra ha presentato il suo programma se vinco ha detto 300.000 nuovi posti di lavoro. Roberto Maroni candidato presidente del centro-destra è tornato a parlare degli scenari possibili alle prossime regionali sarà una battaglia all'ultimo voto. Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia partecipando a un'iniziativa per celebrare il giorno della memoria ha esortato gli studenti ad approfondire il tema della Shoah. Presidio dei lavoratori di Compass oggi contro 824 licenziamenti decisi dall'azienda, 131 i posti a rischio in Lombardia. Buonasera dal TGN, dunque Umberto Ambrosoli candidato per il patto civico centro-sinistra alla presidenza di Regione Lombardia ha presentato il programma per la Regione, saranno sette le liste che lo sosterranno. Massimo Scarinzi. È la creazione di nuovi posti di lavoro il punto centrale, l'obiettivo a cui Umberto Ambrosoli tiene di più. Oggi il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il patto civico ha presentato il suo programma al centro l'aumento dell'occupazione in Lombardia. 300 mila nuovi posti di lavoro in 5 anni per passare dal 65 al 70% degli occupati. Tra le proposte c'è anche l'istituzione di un reddito autonomo per chi è senza lavoro. L'obiettivo che noi ci poniamo è quello di riuscire a dare a chi è privo di qualsiasi reddito per aiutarlo a rientrare nel mondo del lavoro una somma fra i 400 e i 450 euro. Ambrosoli punta anche a una riduzione della pressione fiscale. Taglio all'addizionale regionale IRPEF per i redditi inferiori a 30 mila euro lordi e riduzione dell'imposta per chi guadagna da 30 mila a 70 mila euro. Tra le riforme e proposte c'è anche quella del ticket sanitario che diventerà progressivo in base alle condizioni economiche della famiglia. Non è mancato un attacco al candidato di Lega e PDL Roberto Maroni, prima sulla proposta del carroccio di mantenere il 75% delle tasse in Lombardia, quindi sui soldi spesi dalla Lega per la massiccia campagna con cui sta tappezzando di manifesti le città lombarde. La proposta fiscale del 75% di Maroni ogni volta che viene espressa da qualche parte e analizzata da soggetti terzi, sto pensando anche ieri da parte di Confindustria, viene tacciata di realizzabilità. Quei soldi che loro stanno utilizzando, a differenza della mia campagna di Presidente per la Regione Lombardia, sono soldi pubblici. Ambrosoli sarà appoggiato da sette liste, Partito Democratico, SEL, Etico a Sinistra, PSI Lista Civica, Italia dei Valori e Centro Popolare Lombardo, la nuova formazione di Enrico Marcora che oggi ha confermato il suo impegno al fianco del candidato del patto civico. La priorità è battere Maroni e di conseguenza la priorità è appoggiare direttamente Ambrosoli. Credo che il progetto di Maroni sia un progetto negativo per la Regione Lombardia come è stata negativa il rapporto che è esistito col PDL e la Lega in Regione Lombardia. Scade domani a mezzogiorno il termine per presentare liste. I candidati per le elezioni regionali del 24 e 25 febbraio, già oggi dalle 8 in poi si sono presentati rappresentanti dei partiti e sono state presentate 15 liste e 4 candidature. I rappresentanti con i faldoni sotto braccio si sono presentati alla Corte d'Appello di Milano con il tetto minimo di firme richieste 9.000, la metà rispetto alla scorsa tornata elettorale. A rischio la lista dei radicali che qualche giorno fa era ferma a 1.500 firme. A sorpresa c'è un candidato presidente nuovo e Marco Dinunzio del movimento Bunga Bunga che però non ha ancora presentato le firme e le liste che lo sostengono. Roberto Maroni è tornato oggi a parlare degli scenari possibili alle prossime regionali, una battaglia dura all'ultimo voto, ha detto l'ex ministro intanto Albertini, è tornato a parlare della proposta leghista di trattenere il 75% delle tasse ritenuta inattuabile. I fratelli d'Italia hanno ribadito e spiegato il loro appoggio alla coalizione di Lega Nord e Popolo della Libertà. Sentiamo Stefano Fumagalli. I sondaggi parlano di un centrodestra in Lombardia leggermente avanti ma Roberto Maroni usa parole attente. La battaglia sarà dura, ha detto oggi l'ex ministro, non do nulla per scontato, si andrà all'ultimo voto ma sono ottimista. Con la corsa ai candidati e la solita maretta della compilazione delle liste, oggi un incontro a Roma e domani a Milano la presentazione del programma di coalizione. Intanto prosegue l'onda lunga dell'accusa di ieri di Umberto Ambrosoli Amaroni sulle spese elettorali. Un milione, dice l'avvocato, meno di un terzo la replica. Non perde l'occasione Gabriele Albertini che si insinua nel dibattito oggi dicendo che la sua campagna costerà non più di 400 mila euro e a uno mattina l'ex sindaco se la prende di nuovo con la proposta di tenere in Lombardia il 75% delle tasse. Com'è credibile che oggi davanti alla campagna elettorale si inventi una battuta, a questo punto potrebbe dire il 100% di tasse, ancora meglio dal punto di vista dello slogan, ma se non è riuscito a spostare lo 0,17 quando aveva il governo nazionale, il governo locale. Convinti invece delle proprie scelte i Fratelli d'Italia che hanno confermato l'accordo con Maroni e la coalizione di centrodestra e oggi hanno ribadito il concetto. Con noi di Fratelli d'Italia più che di percentuali che non spettano alla regione diciamo che occorra sapere come vengono spesi e come li vogliamo spendere? Prima di tutto per le famiglie, per l'occupazione giovanile, per il credito alle piccole e medie aziende, per l'aiuto alle famiglie numerose. Potrei andare avanti, non con sperperi, non con cose che non ci appartengono. Noi definiamo qual è il massimo di tassazione ed è il primo punto di Fratelli d'Italia nel programma, quello di mettere un limite massimo alla tassazione in Costituzione in modo tale che si ponga un limite allo Stato e alla capacità dello Stato di entrare nella casa di famiglia o in un'azienda e poi da quel punto si confrontino i partiti su come ripartire quella spesa pubblica. Voltiamo pagina, il sindaco di Milano Pisapia ha partecipato a un'iniziativa per celebrare il giorno della memoria con alcuni studenti delle scuole medie e superiori milanesi. Il servizio. Milano si prepara alle celebrazioni per il giorno della memoria alla ricorrenza europea del 27 gennaio in cui si ricordano le vittime della Shoah nell'anniversario dell'apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz liberato dall'armata rossa. Questa mattina il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha partecipato a un incontro sul valore della testimonianza nell'ambito delle celebrazioni. Ad ascoltarlo e ad ascoltare le testimonianze di alcuni tra i sopravvissuti e i lager nazisti molti ragazzi delle scuole medie e superiori di Milano. È un incontro fondamentale perché fa conoscere le testimonianze di chi ha vissuto quel tragico periodo ai giovani che ne hanno letto sui libri di storia e ne hanno sentito parlare da genitori e professori. Milano è stata una delle città che più si è opposta al nazifascismo ha ricordato il sindaco nel suo intervento. Per questo è una città medaglia d'oro della resistenza e coltiva la memoria di chi ha perso la vita nei lager. Durante il convegno alcuni testimoni diretti hanno raccontato e spiegato ai ragazzi le terribili esperienze della deportazione nei campi di concentramento e della vita all'interno dei lager esortando i giovani a conoscere la storia perché la memoria è la miglior garanzia perché l'orrore della Shoah non si ripeta. Un filosofo del pensiero evolutivo parafrasò la frase che sui campi era scritta Arbeitsmachfrain cioè il lavoro dei liberi dicendo che quello che rende liberi è la conoscenza. E oggi in anteprima è stato presentato il memoriale della Shoah di Milano che verrà inaugurato dopo domani, domenica 27 gennaio, uno sforzo corale di molte istituzioni che l'hanno promosso e che vede il ritorno alla vita dell'area che circonda il famoso binario 21 della stazione centrale da cui partivano i convogli di deportati milanesi e lombardi destinati ad Auschwitz. Anna Maria Braccini. Binario 21 della stazione centrale da dove il 30 gennaio 44 partirono i convogli destinazione a Auschwitz. Divenuto negli anni il simbolo non solo milanese della deportazione ebraica, binario 21 sarà pieno un luogo della memoria, di ricordi ma anche di studi e di documentazione con l'inaugurazione del cuore del memoriale della Shoah di Milano, cui parteciperanno nella mattina di domenica 27 gennaio, tra gli altri anche il presidente del consiglio Mario Monti con il ministro Riccardi, l'arcivescovo di Milano Angelo Scola, il rabbino capo di Milano Arbib, ma soprattutto saranno le parole di Liliana Segre, una delle ultime sopravvissute che da qui partirono con il famigerato convoglio del 44 a raccontare cosa fu binario 21. Io credo che questa istituzione sia importante perché recuperando la memoria riduce quella zona grigia dell'indifferenza e non a caso noi abbiamo messo la parola indifferenza all'ingresso del memoriale. A lungo abbandonata e rivenuta una zona quasi cadente della stazione, nel 2009 sono iniziati lavori per un ambizioso progetto che ora vede la sua concretizzazione appunto nel memoriale, anche se all'appello mancano 2 milioni di euro per completare la biblioteca e l'auditorium, struttura che comunque occuperà una superficie di circa 7.000 metri quadri, attraverso un sistema di spazi integrati e recuperati, anche grazie all'impegno delle istituzioni, con percorsi tematici come la sala delle testimonianze, il cannocchiale della discriminazione, la biblioteca, il binario della destinazione ignota, il muro dei nomi, per non dimenticare. Nella rete in quest'ultimo periodo si sono diffuse teorie negazioniste, c'è soprattutto una semplificazione eccessiva di quello che è accaduto, una confusione tra colpevoli e vittime, la storia che viene fatta qualche volta dai carnefici e soprattutto un'intolleranza che cresce, un diffondersi dei pregiudizi, tenendo conto che poi la Shoah è negata per esempio dall'estremismo islamico. La pagina sindacale, presidio di protesta dei lavoratori di Compass oggi a Milano contro gli 824 licenziamenti decisi dall'azienda, il tavolo di conciliazioni con i sindacati è fallito, 131 i posti a rischio in Lombardia. Nuovo capitolo della protesta dei lavoratori di Compass che non si rassegnano davanti agli 824 licenziamenti preannunciati dall'azienda multinazionale che gestisce i servizi mensa all'interno di scuole ospedali. Oggi giornata di sciopero e presidio davanti alla sede milanese della società in via degli Olivetani. A quattro mesi dall'annuncio dei licenziamenti, 824 in Italia, 131 nella sola Lombardia, la procedura di conciliazione tra la multinazionale e i sindacati è fallita. Da parte dell'azienda nessun passo indietro nonostante i lavoratori abbiano messo sul tavolo diverse proposte per salvare i posti. Nessun tavolo abbiamo messo contratti di solidarietà, cassa integrazione, rotazione, abbiamo messo qualsiasi possibilità per salvaguardare i posti di lavoro ma loro comunque, forti della loro potenza economica, dicono no, noi andiamo avanti. I licenziamenti porterebbero al taglio di un lavoratore ogni 10 in Italia, tra loro quadri impiegati e operai. I dipendenti spiegano che il bilancio della società, pur con margini di guadagno inferiori rispetto agli anni scorsi, è comunque inattivo e che il lavoro non manca. Alcuni raccontano di essere stati sottoposti a pressioni ingiustificabili da parte del management dell'azienda negli ultimi mesi. Anche oggi i dirigenti non hanno voluto incontrare i sindacati. Anche oggi che sanno che vengono i sindacati nazionali si sono messi in ferie, hanno dato ordine a tutti i capi di non venire per non dover neanche parlare con i sindacati nazionali. E domani comincia la quattro giorni di referendum tra gli oltre 3.000 lavoratori del San Raffaele per decidere se recepire o meno la bozza di accordo siglata tra la proprietà e le parti sociali. La CUB Sanità però non ci sta e contesta la bozza che è stata sottoscritta. La bozza sembrava risolutiva via la minaccia dei 244 licenziamenti tra i lavoratori dell'ospedale San Raffaele. In cambio una riduzione di stipendio pari al 9%. La vicenda però è più complessa. Di così a leggere tra le maglie dell'accordo è la CUB Sanità che oggi con un comunicato contesta la bozza ritenuta l'ennesimo smacco ai lavoratori vittime di mala sanità e di gestioni colpevoli a cui ora però viene passata la grana delle ristrutturazioni. Hanno chiuso gli occhi sugli sprechi, dicono dal sindacato Walter Gelli della CUB Sanità. La ragione per cui noi siamo contrari a questo accordo è che in realtà non è un accordo. In realtà si abbraccia totalmente la richiesta iniziale del datore di lavoro, del nuovo datore di lavoro. Tempo fa sembrava che fosse uno spiraglio in cui si poteva portare a casa di più. Quello che emerge è che i lavoratori dovranno decidere sulla loro pelle e con la spada di Damocle dei 240 licenziamenti per cui ognuno firmerà pensando che potrebbe essere lui. Riteniamo che se dovesse passare il sì referendario sarebbe una sconfitta del movimento imperio milanese che sicuramente non è utile alla causa di tutti. La richiesta è nessun licenziamento e il diritto di mantenere il contratto pubblico anche a titolo individuale per tutti i dipendenti, mentre per un'eventuale riduzione di salario la proposta è quella di un contratto di solidarietà rinnovabile di anno in anno. È stata avvertita anche a Milano in particolare ai piani alti degli edifici, la scossa di terremoto che ha interessato alle 15.50 di oggi pomeriggio le regioni dell'Emilia e della Toscana. L'epicentro è in Garfagnana, circa 35 chilometri a nord di Lucca, la magnitudo è di 4 e 8 gradi. Ai vigili del fuoco non risultano in provincia di Milano e a Milano conseguenze a persone o cose anche se al comando sono giunte numerose telefonate da parte dei cittadini. Hanno chiamato l'operazione Sibilo perché in paese la gente parlava di uno strano, andi riviene da un autonoleggio. I carabinieri della tenenza di Pero, in provincia di Milano, hanno così scoperto che l'attività serviva anche a mascherare un aviato traffico di sostanze stupefacenti. Corrieri e acquirenti, usando le loro vetture, pensavano di passare inosservati nell'anno di rivieni di autonoleggiate. 13 le ordinanze di custodia cautelare, 12 in carcere, una ai domiciliari, emesse nei confronti di altrettanti cittadini africani e italiani responsabili di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. A capo della banda c'erano quattro pregiudicati, tra cui Giorgio Cervino, pensionato 53enne di Foggia, con una lunga fedina penale che comprende anche la violenza sessuale su due ragazzini. Inoltre Cervino è stato arrestato nel luglio scorso per aver tentato di far esplodere il palazzo del comune di Pero perché non gli avevano concesso un alloggio dell'Aler. Un uomo di 63 anni è stato arrestato per violenza sessuale dopo aver palpeggiato una ragazza di 16 anni nel vagone della metropolitana di Milano. L'uomo, un egiziano regolare, è stato notato dagli agenti della Polmetro in Borghese mentre si aggirava con aria sospetta sulla banchina di Cadorna. All'arrivo del treno diretto verso Roffiera, l'uomo ha seguito la ragazzina a bordo e subito dopo ha iniziato ad appoggiarsi alle sue spalle. A quel punto, in corrispondenza della fermata Wagner, gli agenti sono intervenuti e lo hanno ammanettato. Le temperature si sono abbassate a Milano soprattutto nelle ore notturne e da stasera è stato allestito il mezzanino della stazione centrale per ospitare un centinaio di senza tetto. Allertate tutte le 25 strutture pubbliche e private che ospitano oltre 2.500 clochard. Sentiamo Alberto Carreras. I meteorologi lo avevano annunciato. Sulla Lombardia ci sarà un abbassamento delle temperature soprattutto nelle ore notturne. Il termometro scenderà di alcuni gradi sotto lo zero anche a Milano e dunque torna l'allarme per i senza tetto. Da stasera riapre il mezzanino della metropolitana alla stazione centrale. La protezione civile, in collaborazione con la Croce Rossa, allestisce brande, coperte e sacchi a pelo per un centinaio di persone che potranno riposare in un letto e non a terra come avveniva in passato. Predisposti anche bagni provvisori, un gazebo con gli operatori del comune, della Croce Rossa e i medici volontari. Il mezzanino, ingresso in piazza Duca d'Aosta, angolo via Vitruvio, resterà aperto per i senza tetto dalle ore 20.30 sino alle 7.30 del mattino. L'assessore alle politiche sociali, Pier Francesco Maiorino, ha detto che il comune è in prima linea per evitare altri drammi dovuti al freddo. C'è anche il problema che molti senza fissa dimora rifiutano l'ospitalità nei centri attrezzati, preferendo imbottirsi di maglioni e coperte e dormire all'aperto. Situazione estremamente rischiosa quando le temperature sono vicine a zero gradi. Complessivamente sono 25 le strutture pubbliche e private che ogni notte danno riparo a circa 2.500 clochard. Da segnalare che da ieri anche il centro sociale Leoncavallo di Via Vattò ha predisposto in un locale 15 posti letto destinati ad ospitare i senza tetto dalle 18 alle 8 del mattino, con docce e anche un pasto caldo. Sette persone, quattro adulti e tre bambini sono rimasti intossicati durante un incendio scoppiato in un appartamento di uno stabile in via Cavezzale 11 in zona via Padova. A Milano i vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate al settimo piano del palazzo, abitato soprattutto da abusivi ed extracomunitari. Un uomo straniero di 40 anni è stato trasportato all'ospedale San Raffaele per antissocazione da fumo. Dopo gli accertamenti condotti sull'edificio, i vigili del fuoco hanno fatto sapere che lo stabile di via Cavezzale 11 non ha subito danni strutturali tali da renderlo inagibile. È un brianzolo di 44 anni, di limbiate, lo sciatore morto in uno scontro con un altro turista in Valtellina. L'altro sciatore, uno straniero cinquantenne, si è rotto un femore. Il tragico incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno sulla pista Stelvio, una delle più impegnative teatro spesso delle gare mondiali e internazionali di sci. La vittima è deceduta in seguito al violento impatto sulla neve dopo la collisione. Gli agenti della Polizia di Stato di Sondrio, in servizio di soccorso lungo gli impianti di risalita con il personale della società Impianti Bormio, hanno tentato di rianimare il turista Brianzolo, ma ogni tentativo è purtroppo risultato vano. L'altro sportivo invece è stato trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo per la frattura al femore e lo stato di shock. Notizia di poco fa, due operai sono rimasti feriti in una fabbrica di Nova Milanese dove si è verificato lo scoppio di una vasca di alluminio. Ne è dato Zizia il 118 che con i vigili del fuoco è presente sul posto in quanto nella vasca si trova un terzo operaio, le condizioni del quale non sono ancora rese note. Ed ora vediamo quali sono gli appuntamenti in onda stasera su Telenova, vi ricordo Nova Stadio Sprint alle 19.45, subito dopo questa edizione del nostro telegiornale, alle 20.30 in linea d'ombra condotta da Adriana Santacroce, tra gli ospiti ci sarà il candidato di lista civica per la Lombardia, Gabriele Albertini, alle 20.30 in linea d'ombra dicevamo, e poi alle 23 si parlerà di motori con Franco Bobbiese e Bob Ghiar, noi ci rivediamo per mezzanotte, il TG di notte, e poi subito dopo la sigla parleremo di borsa e di meteo, a dopo. Grazie. Grazie.